Però devi regalare emozioni, devi creare un pato sonico, quindi magari, su qui non vedo tante coppie, vedo molti, ragazze e ragazze divise, magari unitevi ecco, create una sinergia, in maniera tale che grazie alla forza della musica possa nascere qualcosa di più, poi magari che lo so. Dai però, cavolo, tu vedi c'è un vento tremendo che disturba anche non poco qui sul palco, infatti il suono, cantare col vento è qualcosa di incredibile. E' meglio in una prateria ma sopra un palco è il massimo. Fatemi sentire, dai! Ci siete o no? Sì! Non ho capito bene? Sì! Così va meglio, dai! Si sentita proprio in pierre, si sentita, si sente sempre. Si sentita proprio in pierre, si sentita proprio in pierre. Sì! C'è ma! Si sentita proprio in здесь, Sì! 맞는... Si sentita proprio, scrotta questo. Sì! 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 I'm in the ring, yeah But when I'm sad When I'm sad she dance to me A thousand smiles She gives to me a song Yes or I Because she says it's alright I'm taking a finger off And you're here And you're here And you're here And you're here Guitar 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Riccardo Simone Grazie a tutti Grazie Grazie a tutti